Musica Questi forum, il senso è quello che praticamente i 17 paesi membri che fanno parte di San Marito International abbiano uno scambio con referenti intellettuali, diciamo così, su tematiche che ci riguardano tutti noi pronto soccorso, soccorso, protezione civile, anche nel settore sociale Ora diciamo così come Croce Bianca poter ospitare tutte queste persone forse dietro c'è anche un po' di soddisfazione perché è un po' il succo di lavoro che va avanti da più di decenni Stiamo dando un'azione comune, stiamo facendo cose insieme Siamo capofila noi stessi ma anche partner di attività finanziate dalla comunità europea di progetti riguardanti la protezione civile ma anche altri La nostra campagna Io non rischio sarà raccontata ma sentiamo anche e stiamo sentendo cose molto belle da questo metodologico organizzativo per fare sempre meglio il servizio che noi vogliamo fare bene Questo forum è un'occasione per incontrare tanti amici che conosciamo già, per conoscere nuova gente e la cosa bella per me è vedere che nonostante siamo tutti dei paesi diversi e anche organizzazioni diverse e nemmeno parliamo la stessa lingua, però tutti parliamo lo stesso linguaggio, è quello del pronto soccorso E qui abbiamo deciso che sarà la Slovacchia ad organizzare il prossimo contest e quindi abbiamo un obiettivo nel 2016 vicino a Bratislava presumibilmente anche con l'aiuto degli amici della Polonia gli amici slovacchi faranno da organizzatori di quella bellissima iniziativa che ci ha visto protagonisti lo scorso anno ad Adria Venezia del contest